Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World The Game Arriviamo a mille like, condividete il video, iscrivetevi al canale Se no vi lascia l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino Andiamo avanti con questa nuova puntata Come mi avevate chiesto ragazzi andiamo a vedere un pochino di vostri posti, di vostri villaggi, di vostri range dei dinosauri Come vogliamo chiamarli e mi sono portato ovviamente a presso a me il mio bellissimo peluche di Rex Che ho sempre qui a fianco anche se voi non lo vedete, è bello nascosto Allora andiamo a vedere intanto il primo che mi ha mandato tantissime foto del suo bellissimo gioco Del suo Jurassic World The Game, del suo account Quindi si parte immediatamente, questa è una prima tranche di foto Ve le dividerò per pezzo per pezzo perché sono veramente tante E poi vediamo di riuscire a vedere pure qualcun altro se ce la facciamo Perché Alessandro non ha mandato veramente tantissime ragazzi Allora partiamo dalla sua prima immagine, un'immagine molto spoglia, la parte vuota Che ci fa vedere comunque che è a livello 62 e comunque c'ha della buona ciccia e che c'ha dei buoni soldini C'ha pochissimi dinodollari quindi l'ha utilizzati probabilmente per la farm, per i soldini e per altre cosine Ok proseguiamo, allora ci fa vedere una parte della sua disposizione Utilizza molte torrette quelle da 100 Utilizza molte strutture da questo lato sinistro simile a come facevo io all'inizio Diciamo Poi ha messo il dinosauro giù in fondo come l'ho messo io Così almeno non dà fastidio a niente Poi vediamo che ha tutti i carnivori in alto, ok, in una bella posizione, tutti i belli carichi In alto a sinistra c'ha altre torrette da 100 Ovviamente con quello per recuperare tutto insieme presumo Ok c'ha la mongolfiera, c'ha un sacco di bella robina là sopra Poi in basso a destra troviamo i suoi anfibi e i suoi pterosauri Più o meno nella stessa diagonale Infatti vediamo quello per raccogliere tutti gli pterosauri E anche due belle fusion belle pronte pronte Ok vediamo qua tutti gli herbivori invece Con oltre tutto altre torrette che danno bonus e soldini Molto carina la parte in basso Ovviamente anche lui ha utilizzato quelli lì a un'ora da 700 Anche se l'ha messi là un po' buttati eh Ok questa è la situazione Da questa parte ci sono penso una divisione di tutti quelli più rari Mi sa che ha diviso per tipologia quelli da raccogliere Interessante Stessa cosa ha fatto in basso a destra Che ha messo tutti i leggendari nella stessa posizione Questa è però sull'altra isola Vero è sul nublar Perfetto Quindi ha messo vicini tutti quelli della stessa tipologia Che danno più soldi per differenziarli Interessante Ma andiamo a vedere gli altri screen che ha mandato Allora in questo caso ci mostra qualche suo dinosauro Molto bello l'acrocantosauro livello 20 1998 764 Un bel eudimorfodonte livello 20 Sempre molto cicciotto Un romaleosauro Questo ce l'ho pure io però ce l'ho al 10 Lì ce l'ha al 20 Molto bello sinceramente 50.000 monete ogni 12 ore niente male Il giganocefalo che è ovviamente l'ibrido Ci piace tantissimo Ce l'ha al 1 al 30 e 1 al 20 E danno 61.000 oro ogni 3 ore Ecco perché c'è tutti quei soldi Ahiaiaia è buono Nundagosauro 101.849 Ogni 3 ore Lo stesso pure questo Dovebbe essere un ibrido Non mi ricordo Mi sembra di sì No Nundagosauro è quell'altro Che c'ho pure io però a livello 10 Mazza quanti soldi ogni 3 ore Enorme Diplotator l'altro fusion A livello 40 Che dà 107.000 ogni 6 ore Niente male Secondo me devo caricare di Diplotator Per fare più soldi Poi il Pelecanipteryx Quindi mi sta facendo vedere Tutti i suoi fusion ibridi Che danno sempre bei soldini Diallo 40 La Langasauro 25.700 Ogni 30 minuti Perché ce n'ha 3 Di cui uno al 40 Niente male Indominus Rex Io spero di farlo molto presto Al 10 Abbiamo Littiostega Bello carico All'ultimo Non è bellissimo di faccia Littiostega Maxato comunque Un Aiasauro al 40 Che anche questo Dà bei soldini E andiamo a vedere gli altri Perché non è finita qui Guardate quanti dinosauri C'ha il ragazzo Quezza Cottele Livello 40 Zejangoptero Livello 40 Il Postosugo Livello 40 Che dà 117.000 Dopo 23 ore Niente male Specialmente per me Che rientro il giorno dopo Caprosugo Stessa cosa 22 ore Buonissimo al 40 Velociraptor Come noi Al 40 Niente male Spinoraptor Al 20 Ok Lo Stegosauro 1 Al 40 Che è quello per fare la fusion Niente male Carnoraptor Ce l'ho pure io Ma ancora non l'ho messo Mi sa Abatosauro Livello 10 Quindi te è arrivato Probabilmente da poco Mastodontosaurio Ce l'ho due di questi Bellissimi Terodattilo Uguale al mio Perfetto Concavenator Perfetto Ce l'ho pure io Stiamo alla grande Tanicolagreo Oddio questo me lo ricordo Ce l'avevo nella vecchia serie Anchilodoco Non ce l'avevo Questo è un ibrido Ibrido nuovo Ostaposauro Molto caruccio E dovremmo avere L'ultima sua foto E poi andiamo da Qualcun'altra Vedere che cosa fa Questa è l'ultima foto Mandatami da Alessandro Ultimo dinosauro Che ha fatto Apatosauro al 20 Un 3330 di vita 347 Ovviamente da 14.000 Ogni 30 minuti Non dà tanti soldini Però è veramente ghiozzo Come tankerbivoro Allora vediamo Il prossimo Chi è Allora Questo è di Francesco Mi ha mandato 9 foto È un livello 74 Ovviamente Sta messo molto bene Bella disposizione Bella pulita E tutti ravvicinati In maniera da poterli Raccogliere subito Ha giustamente La statua di Hammond Che dà veramente Tanto bonus Una volta arrivati a quelli Potete caricare Dei statui di Hammond E fate il massimo Della percentuale Vediamo 1440 GV 99 milioni di monete 4 milioni di ciccia 1603 ovviamente DNA Perché più si sale Più se ne consuma 4300 GV Ok Andiamo a vedere La sua disposizione Questi dovrebbero essere Tutti i carnivori Dalla parte alta Vedo varie cose Per potenziare i bonus Vedo qua sotto Stessa cosa Anche varie statue Di quelle dorate Che sono date Dopo aver fatto Il determinato boss Se non mi ricordo male Ovviamente le varie torrette Qua ci stanno I pterosauri Con tutti i potenziamenti In basso Doppia farm Bella cicciotta Di quelli da un'ora Questi sono veramente ottimi Potenziati Intorno anche Dalle statue di Hammond Qua sotto E ha messo anche Diverse mongolfiere Niente male Poi andiamo avanti Tutta la zona centrale Composta da tutti i suoi dinosauri Qua vedo tantissimi Ripeto tantissimi Erbivori Ha una quantità Immonda di erbivori Ok Glossario delle creature Mi sta facendo vedere Che è a 121 Su 121 Cioè mi stai dicendo Che hai tutti i dinosauri Hai tutti i dinosauri Già Seriamente 11 su 34 Upgrade 71 cosini Ok Interessante Il fatto che L'abbia sbloccati Tutti Niente male Mi li stai facendo vedere Tutti Megalodonte Nondagosauro I chelenken Ma quanti dinosauri hai Tutti Tutti Bellissimi Mamma mia Mi li stai facendo vedere Così da glossario Volevo vederne uno Bello cicciotto La prossima volta Caso mai Mandami qualcuno Di quelli cicciotti Ok In pratica Hai tutto Sei pazzesco E sei livello 74 Quindi neanche troppo lontano A parte che Alla fine È più difficile Salire di livello Comunque Complimenti Oh qualcosa Me lo stai facendo vedere Eccolo qua Il bellissimo Monostecotopo al 20 Questo lo posso fare Anch'io molto presto E il diplosugo Ah no Le hai messe qualche foto Interessante Eccole Indominus Rex Bellissimo Livello 30 Quasi maxato Ok Benissimo Ado vedere se mi hai mandato Qualche foto Se no andiamo anche Da qualcun altro Allora Davide mi manda Il suo parco Livello 67 Mi ha mandato Un breve video Da circa Un minuto e 13 Lo metterò Senza audio Ci farà vedere Un pochino Come è fatto Il suo Impero Dei dinosauri Olè Livello 67 Quindi abbastanza alto 164.000 Di DNA 31.013.549 9.000 GV Ok Ho fatto partire Come vedete La clip Dovrebbe cominciare A muoversi Vediamo un po' Che ci fa vedere Ok Sta recuperando Dei soldini Ci fa vedere Come ha disposto Le cose La qualità è quella Che è ricordare Che è 7.20 Ragazzi Va bene Ha creato Una disposizione Le stradine Sono carine Ma ricordati Che le strade Non danno bonus E occupano Parecchio spazio Specialmente Per i bonus Di farm E di disposizione Molto carina Comunque Come cosa Mamma mia Quante strutture C'hai Anche di quelle Belle costose Ci piacciono Ecco il tuo Indoraptor Livello 10 Molto bello Prima o poi Arriveremo anche noi Di nuovo A quei livelli Visto che siamo Meno esosi Ci faremo Un po' più fatica Ma ci arriveremo Bella la macchina Dietro Jurassic Park Gappottata Ovviamente Dall'Indoraptor Ok Tra i tanti Geysen Mi stai facendo Vedere anche L'altra isola Ovviamente Che è Isola Sorna 331 mila Guarda i pesci Guarda gli acquatici Ragazzi Eppure le cenozoiche Beh Devo dire che stai messo Molto bene Posso dirlo Poi con 31 milioni Tanta Tanta Roba Ok Allora In realtà Ci doveva essere Anche un altro Ragazzo Che si chiama Mario Mario 92 E il problema È che Mi aveva mandato Gli screenshot Sopra al drive Il drive Probabilmente È scaduto E quindi Sono sparite le immagini Quindi Mario Se vuoi rimandarmi Le mandale Che le metto Nel prossimo video Stessa cosa Per Gabriel Gabriel mi ha scritto Sono Gabriel Quello che voleva Mandarti i video Di Jurassic World The Game Però non mi hai mandato Il video Quindi mandamelo Se vuoi O mandami Delle immagini Per vedere Il tuo bellissimo Parco Ragazzi State messi Benissimo Siete veramente Grandi Ovviamente Io ci metterò Un po' Per raggiungervi Non so se vi è piaciuta Questa cosa Vorrei rifarla Quindi Se c'è altra gente Che vuole mandarmi Foto O immagini O dei brevi video Ovviamente Per email Sull'email ufficiale Del canale Fabactim Come sempre Io sono molto contento Di vedere i vostri parchi Anche lui Penso che sia molto contento Di vedere tanti i suoi Simili All'opera Arriviamo a mille like Condividete il video Iscrivete al canale Se i nuovi Lascia il hashtag Jurassic World Game Qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci dobbiamo vedere Sicuramente domani Con il video Del gioco E ci dobbiamo fare un cuoricino E ci dobbiamo fare un cuoricino